come il perchè degli italiani negozio squallido ecco qua c'è un paolo nel negozio squallido che subito corre verso il generatore pizza subito in cassa c'è il ruin ciao ah chiave viola michael mayer merda la pizza mi ha dato una chiave viola ok ok paolo paolo via 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 di nuovo quel bug che salti la finestra e torni indietro no 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 qui oi grande bravo super bravo cazzo quello che distrugge pallet spirit fury un buco del mondo quando parlo un nuovo guarda un'idea facciamo quel gen che sta recredendo sta arrivando non ti preoccupare mi prende su prendimi subito bravo una fine estrella non ti baggare grazie signore su che ti sto palpe ah ti sei accecato dopo una vita un altro pallerino oh no quel cazzo non avercela con me ti prego ti prego pizza si è fatta tutte le casse vieni 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 dai sta arrivando pizza ce la fa ti ha ripensato sta arrivando Paolo thank you grazie Paul io mi avevo da passare un brutto no la pizza la salvo io ma sto qua vicino non è arrivato eh no non ce la facevo eh no non ce la facevo eh chi cazzo doveva vedere no non andi no non andi ragazzi pizza ha trovato la chiave al copaleno uh che fa la chiave viola ci sono due chiavi l'abbiamo sia che lui quindi se qualcuno trova la botoloschi merda merdos è incazzato con me no ma come caricato ma raga vabbè dai il gioco fa schifo al cazzo scusate Paolo se vanno let's go ok cerchiamo la botola Brown dia a pizza che se trova la botola ce la prendiamo Paolo Paolo vattene 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 non ...... dai dai dai! bravissimo cazzo! bravo non ti segui più prima cazzo! Ufff! Ufff! MEDA! Eh, altra di... Dovate la botola! Ok, va bene, va bene! Sì, dove sei noi! Ti bugga, ti bugga, ok! Brown, dì a Pizzati andare dove ci siamo dati la chiave al cobaleno! No, cazzo, è ancora tu! Vabbè ma apri la Tanto c'è la pure Prizio la botola Dove sta? Vediamo Ragazzo sta la botola Ah ok Cazzo no Una porca puttana Vai vai Sì No Porca troia ragazzi Sì Che è successo? Mi muore Pizza perché gliela ha richiusa di nuovo in faccia Sì ma perché non entrava Pizza? Mannaggia lui C'è stato il bug che si è Io provavo a entrare Pizza provavo a entrare